Dagli acquisti online ai servizi bancari sono sempre più numerose le pratiche quotidiane che il cittadino svolge online e con gli strumenti digitali. Per questo a Pordenone è nato il progetto Essere 3.0, un ciclo di consulenze e incontri totalmente gratuiti, aperti a tutti, per spiegare a chi non è avvezzo come svolgere le operazioni informatiche utili nella vita di tutti i giorni. L'iniziativa è organizzata da Università e Comune di Pordenone, che lo ha finanziata con 37.000 euro. Gli insegnanti dei cittadini saranno gli studenti universitari coordinati dalla docente Antonella Varesano, due i tronconi in cui si divide la formazione. Il catalogo dedicato al one to many, cioè lezioni d'aula di circa 50 minuti, sono dedicate alle persone che hanno già delle competenze informatiche e che vogliono approfondirle. Questo significa poter parlare di fake news, poter parlare di file di Word, Excel, poter parlare di tutto quello che è la progettazione di siti web. Insomma, qualcuno che ha delle competenze e vuole svilupparle. Mentre invece il catalogo più semplice, il catalogo one to one, che è dedicato a delle persone direttamente, degli aiuti diretti, sono degli incontri singoli di 30 minuti, dove le persone che non hanno nessuna competenza del digitale possono affrontare dei temi più semplici, come fare alcuni documenti per le pubbliche amministrazioni, affrontare di farlo speed, i documenti per l'Inps, l'onbanking. Il fitto calendario di incontri formativi si tiene dall'11 novembre al 13 dicembre a Palazzo Badini in Piazza Cavour e al Consorzio Universitario di Via Persecco. Un progetto che potrà essere replicato nel tempo? Verrà replicato. Questa è la prima fase, quella di partenza. Noi abbiamo incontrato gli studenti e il professore che li ha seguiti proprio per capire come partire. Faremo questa prima fase, che servirà appunto a formare una prima ondata di persone. Nel 2020 verrà replicata e continuerà anche successivamente per associazioni, gruppi o anche singole persone. Ovviamente ci rivolgiamo a chi? Ci rivolgiamo a persone, quindi ai meno giovani, che probabilmente sono quelli che hanno più deficit nella conoscenza di questi sistemi. E ovviamente io invito tutti a partecipare, perché si tratta di incontri o uno a uno, oppure gruppi seminari con più persone, ma permetteranno probabilmente di rendere la vita molto più facile. Il progetto rafforza il legame tra la città e la sua università. I vari interventi formativi, le varie consulenze gratuite verranno tenute direttamente da studenti dei vari corsi di laurea. E quindi si rapporteranno con una fascia di età completamente diversa dalla loro e le persone avranno la possibilità di capire anche quanto è importante un po' l'universitario a disposizione del territorio. Per aderire si può chiamare lo 0434 169 7294. Disponibile anche il sito essere3.0.it